Bella ragazzi e benvenuti, ho un fiorellino in mano per le donzelle che seguono questa serie Quindi salutiamo Kika, salutiamo Salutiamo Chiara, chiara signore Salutiamo chiunque altro seguo questa serie Mi sono preparato un pochettino di cose e adesso facciamo una bella cosetta Che spero funzioni, perché io quando devo fare le cosette in genere faccio i disastri Allora, dove ci posizioniamo? Posizioniamoci qua vicino a questo portale che ancora non ho capito a che cosa possa mai servire Perché non l'ho cercato fondamentalmente, quindi non so minimamente davvero cosa possa stare a significare Tra l'altro di che mod è? Legend Gear Secondo me quella lì è una cosa da analizzare comunque, è una cosa da analizzare Comunque sia, prendiamo dell'acqua, prendiamo dell'acqua Questa è una cosa che chi mi segue già ha visto fare Prendiamo dell'acqua, prendiamola un'altra qua Togliamocela tanto sti cazzi Mettiamola qui Prendiamo dell'altra acqua qui E mettiamola qui E prendiamo dell'altra acqua E mettiamola all'ultimo angolo Anche se mi sa che manco serviva Dopodiché prendiamo per la gioia delle donzelle Prendiamo dei fiorellini e mettiamoli tutti attorno Perché vogliamo decorare questo nostro pozzo di acqua Finito i fiorellini Lo sapevo, meno male che ne ho raccolti Ne ho raccolti un po' in più perché non sapevo quanti ce ne volessero Insomma E poi prendiamo un diamante La cosa più amata dalle donne E buttiamolo nell'acqua E non succede Eh no Non ho dato il tempo Non ho dato il tempo alla mod Perché giustamente lagga come la merda Non gli ho dato tempo Di far apparire il portale E mi ci sono buttato direttamente dentro Comunque è caduto un fulmine E si è aperto il portale per la Twilight Forest È una mod che noi abbiamo già esplorato Abbiamo già esplorato nella ultramodded Se non sbaglio L'abbiamo esplorato in varie parti Però diciamo ci sono solo entrato E ho fatto un giretto Non è che ho poi visto per bene come funziona Ammazza ragazzi Qua non lagga però Eh voi non lo vedete perché lo vedete a 30 Però a me va a 60 Madonna è tantissimo che io a 60 Ah vedete però è rimasto sto portate È tantissimo che io non provo Minecraft a questa velocità Da quando ho iniziato questa mod Io metto i fiori e qua compaiono funghi e sterpaglie Non fa niente comunque Vai con il waypoint portale Ok in teoria io già ho preso tutto quello che mi serve Quindi buttiamo la roba inutile Il backpack ce l'abbiamo Questa è roba che possiamo buttare Stavo dimenticando la cosa più importante Però cazzo me li so portati Ho notato di avere sette cuori di questi Sette cuori messi a quattro Fanno un canister Un container scusate mi si chiama qui in questa mod Quindi questo lo metto da parte Pure il secchio perché non ci serve Questi invece ci servono Quindi in teoria mangiando questo cuore Ok abbiamo un cuore in più E dobbiamo cercare di farlo il più possibile sta cosa Perché Questi sono brutti però Non la faccia minacciosa Perché aggiungiamo in maniera permanente della vita Quindi è una cosa che va fatta Ok adesso ho cominciato a laggare ragazzi Bene così Bene così Allora Apriamo un attimino la mappetta E vediamo un pochettino che cosa abbiamo Abbiamo questa struttura qui Questa struttura qui Ci dovrebbero essere delle cose più grandi E delle cose più piccole Innanzitutto io comincerei a dare un'occhiata a questi cosi neri Queste specie di monoliti neri Secondo me il sunray qui non funziona Perché qui è sempre notte praticamente Quindi una volta sparato non si Ah si ricarica Perfetto Ottimo Buona Buona sta cosa La Twilight Forest È una mod Questo io non so se sono aggressivo o meno Rabbit Bat Il nome non mi ispira molto Il nome non mi ispira per niente Però per adesso non si stanno avvicinando Fammi vedere No sembra non attaccarmi Forse perché sa Che è sto rumore Forse perché sanno che gli faccio il culo Allora qui c'è per esempio una colonna inossidiana Io non so a cosa serve Serve questa colonna inossidiana E non ho neanche blocchi Quindi Ah era questo che faceva il rumore Vediamo un pochettino se la apriamo che cosa succede Perché voglio capire se all'interno c'è qualcosa Anche se sono quattro blocchi Quindi in teoria all'interno non può esserci nulla Però voglio vedere Magari se ti rompi Ok C'è un blocco di lapislazzo lì sopra E non mi sembra di vedere nient'altro Oh Oh pezzo di merda E io ti volevo risparmiare E tu invece vuoi morire E muori Cioè non è che voglio dire C'è c'è molta Molto da fare Allora facciamo una cosa Prendiamo un po' di blocchi Perché voglio arrivare lì sopra E vedere che cosa succede Se è solo un Cioè alla fine se ci sono solo I lapis oppure se c'è Qualcosa di più interessante Tanto me ne servono pochi 16 sono più che sufficienti Basta che non c'ho nessuno stronzo Che mi fa cadere Perché io c'ho i miei cloud boots Bellissimi Però i cloud boots è difficile Ne mette Ah ecco stavo dall'altro lato Perfetto Ci arrivo lì sopra No Mettiamo un altro blocco E arriviamo qui sopra Fino ad arrivare Al lapis Al lapis block qua E niente Solo blocchi di lapis Ma niente di che Comunque da qui Riusciamo anche a vedere Un pochettino Stronzo Riusciamo anche a vedere Un pochettino Che cosa abbiamo Abbiamo un dungeon Di quelli che però Da quello che Se non ricordo male Si trovano anche Tranquillamente Mazza che alberone Oh enorme Chissà se c'è qualcosa Lì sopra Comunque si trovano Anche tranquillamente Nell'overworld Lì vedo una piccola struttura Non so cosa sia Quindi andiamola a vedere Ah qui c'è un buco enorme Tipo Che è sto coso Montoni con Con lana in oro Ah qui c'è uno di quei blocchi Che Mettiamoci comunque una cosa Perché Uno di quei blocchi Che abbiamo incontrato Anche sopra Però io avevo visto Dei diamanti Ci ho visto male Ah eccoli Mazza Ciegati Diamanti Che noi prendiamo sempre Perché Oppure perché Mi ha fatto sprecare un diamante Sta mod Quindi mi sembra giusto Che me ne restituisca un po' Sono diamanti questi Sì diamanti Ok il resto non ci interessa Direi che possiamo cominciare A camminare un pochettino Arriviamo fino a quella struttura Vediamo un pochettino Che cosa c'è Perché qui va a fuoco tutto Ma vabbè Me sto perdendo perché lagga E quindi mi si gira il pg Qui abbiamo dei log Per terra E qui abbiamo una specie Di colonna Una struttura che Ma Penso che sia abbastanza Casuale La sua presenza Dove siamo girati Verso di qua Ok qui c'è un bioma Qui c'è un altro bioma Allora io a sto punto Andrei di qua Giusto? Sì perfetto Vediamo un pochettino Cosa c'è lì Che c'è Tanta lava Diciamo che questo Questa parte Della twilight Sarà un po' Esplorativa E basta Perché non voglio Ma quanti ce ne sono Di sti coi Dove Di che cazzo è qualcosa Sarà abbastanza esplorativa Perché poi Ci sono dei landmark Si chiamano così Mazza Ah questo è quello Che noi abbiamo visto Nell'ultima puntata Però Con della lava attorno Quindi anche qui Stronzo Anche qui Non lo so Se c'è un'utilità In questa cosa o meno Sarebbe bello Trovare un po' di Un po' Quest'albero Infatti c'aveva Una faccia Un pochettino Troppo strana Infatti è un ent Non so se è aggressivo Questo come quell'altro No sembra di no Eh ma io non volevo Spararti Scusami Non volevo Volevo picchiarti È colpa di sta cazzo Di spada Che poi se faccio così Spara Mena molto veloce Interessante sta cosa Qui abbiamo una specie Di palude Che lagga E poi vediamo Perché dalla mappa Dovremmo cominciare A vedere qualche Qualche Come dire Landmark Allora dicevo Ci sono dei landmark Li chiama così L'autore della mod Che Sono divisi In minori e maggiori Minori sono Tipo piccoli dungeon Cosa del genere Invece i maggiori Sono quelli più grossi Cioè i dungeon grossi E le sfide più Ecco Tipo adesso Abbiamo trovato qualcosa E le sfide più difficili Tipo qui Probabilmente C'è qualcosa Di interessante Eh sì E questa qui Questo qui È l'ingresso Verso Un dungeon Che noi Effettivamente Abbiamo già esplorato Allora New Dun Dungeon Lo chiamo Montagna Perché sta dentro La montagna Questo è un dungeon Che noi Ecco Io non volevo Scendere No Ecco Porca Mignotta Porca Mignotta Ragazzi Sono quasi morto Già Sono già Quasi Morto Qui già Mi stanno a fare il culo Non ho Energia Non ho energia Quindi è un creeper Ok Malissimo 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 Stanno Malissimo Ragazzi Porco Giuda Come cazzo Ci risalgo Ma sa che devo ricorrere Al teleport Ragà No Perché mi Perché mi se ne va la fame Questo carica Come uno stronzo Perché non riesco a picchiarlo Eh ragà Però se non lo riesco a picchiare Non è colpa mia Aiuto Aiuto proprio Mi piglia da qua Mi piglia sì Sono morto praticamente Ok Teleport Ce l'ho fatta Ok Non so come Ma ce l'ho fatta Credo A non morire Sì Ce l'ho fatta Allora ragazzi Mi sono teleportato Per un semplice motivo Che io il minotauro Lo stavo picchiando Ma non gli facevo un cazzo Quindi se si buggano I dungeon Se si buggano I mob Cioè Sì Sto giustificando il fatto Che mi sono Che mi sono teleportato Comunque sia Allora Qui abbiamo il dungeon Della montagna Quindi di là Abbiamo visto Vediamo un pochettino Di qua Io ho intenzione Di farmela A sta mod Perché la La Twilight Forest È veramente molto interessante Ottimo quando escono i cuori È veramente molto interessante Ed è anche molto Molto difficile Quindi non abbiamo Tra l'altro In tutto questo Neanche L'equipaggiamento adatto Perché Un'armatura In Diamond Non è Non è il massimo Devo vedere un pochettino Quali sono i gradi Per andare a visitare Questa mod Perché questa qui Va fatta assolutamente Per gradi E in maniera Oculata Perché se Ci si butta Dentro I Come si chiamano Dentro i dungeon Così alla cazzo di cane Si rischia di fare Quello che ho fatto io adesso E cioè Morire O quasi Qui ci sono Veramente tante cose E bisogna conoscerle Però Quindi io No 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 Aiuto Aiuto No dai Ma non mi può Allaggare così Ma Cristo Santo Ma non è possibile Ragazzi Mi sta laggando il mondo E mi ha beccato Un coso di pietra Di quelli Guardate come Si è bloccato tutto Si è bloccato tutto Tra l'altro Ci sono mostri Qui vicino Io L'unica cosa che posso fare È teleportarmi Al portale Ed andare incontro Al mio destino Perché Sono destinato Alla morte Praticamente Allora Guardate Guardate che in basso Se se ne va questa chat Di merda In basso Ho dei cuori Quei cuori Adesso piano piano Diventeranno Di pietra Dopodiché Io Per l'ennesima volta Rimarrò Inculato Da quello stronzo Non c'è un modo Per Che palle Ragà Vabbè Direi che Ci dobbiamo fermare qui Anche perché Non voglio aspettare Adesso Che i cuori Si riempiano Avete capito Comunque il concetto Adesso i cuori Si riempiranno Come in una Delle puntate precedenti Quei bastardi In pietra Quel bastardo In pietra Mi uscirà Dal culo Praticamente E poi Mi teletrasporterà Da qualche parte Quindi io La prima cosa Che farò Adesso È poggiare Tutto il mio Equipaggiamento Ma tutto proprio Perché qua La storia Si fa brutta Metterei In una chest A sto punto Metterei in una chest Tutto quello che ho Perfetto Perché qua L'unica cosa È accettare il proprio destino Morire come Uno stronzo Però io questo Non lo faccio comparire Dentro casa Lo faccio comparire D'un'altra parte E Teletrasportarmi In un posto Dove morirò Inesorabilmente E Mi teletrasporterò A casa Questa è l'unica cosa Che posso fare Perché non so Come Assolutamente Come risolvere Questo Come annullare Questo effetto Di quella statua Di pietra di merda Che ricordiamo A quanto mi hanno detto È stata Presa di ispirazione Dal dottor Fu Quindi ragazzi Io chiuderei qui Questo episodio Sono partito Con un fiore Ma Perché ho La spada dietro Io non ce l'ho Né spada Né scudo Però Se premo R Ah C'ho ancora Quella Quella Cosa lì Sott'acqua Che poi alla fine Manco sono riuscito A utilizzare Bene Benissimo Comunque dicevo Dove sto Perché sto girando Di spalle C'ho questo coso in faccia Che tra l'altro Sballa Tra l'altro E niente ragazzi Vi saluto E ci vediamo Al prossimo episodio Io vado a morire Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti